Prendersi cura della vita e di modo particolare di chi è più bisognoso, più fragile, indifeso. Questo l'invito rivolto a tutti dal Pontefice e dai Vescovi in occasione della Giornata per la Vita. Un invito che diventa motivo di impegno per coloro che lavorano presso i tanti centri aiuto vita sparsi in Italia. A Verona 9 i centri che si occupano di bimbi, mamme e famiglie in toto, che nel 2013 ha visto un grande aumento dei casi seguiti. Il centro diocesano aiuto vita, cioè quello di Verona, ha seguito nel 2013, e questo è il dato che abbiamo raccolto, 702 mamme o famiglie, diciamo nuclei, che a volte sono composti anche dalla sola madre con i bambini. Globalmente invece, cioè complessivamente con gli altri centri aiuto vita della nostra diocesi, che sono nove complessivamente nelle diverse zone, abbiamo seguito 1966 situazioni. È un numero altissimo, è un numero che ha visto un incremento del 30% rispetto allo scorso anno. Qua, soprattutto quest'anno, abbiamo avuto molte famiglie provenienti soprattutto dallo Sri Lanka, dalla Nigeria e dal Ghana. Abbiamo però avuto anche un aumento delle famiglie italiane. Le problematiche che si incontrano sono soprattutto difficoltà economiche, visto che molti, soprattutto parlo degli stranieri e anche degli italiani, comunque diciamo il capofamiglia, quindi il marito e il compagno, hanno perso il lavoro a causa della crisi, quindi si ritrovano senza un reddito e con un canone di locazione a cui far fronte. Dopodiché c'è anche il problema che sta aumentando delle ragazze madri, quindi di ragazze giovani, molte volte minorenni, che quindi da sole senza l'appoggio economico e delle volte senza l'appoggio familiare. E dobbiamo quindi in quel caso rispondere anche alla richiesta alloggiattiva, perché si trovano quindi anche senza una casa sotto cui stare, un tetto sotto cui stare. Noi cosa possiamo fare? Io credo che molto si possa fare anche nei piccoli gesti, nelle piccole forme di solidarietà, per cui un richiamo a chi ha beni di prima necessità per l'infanzia, può portarli al centro aiuto vita, noi li raccogliamo, per cui carrozzine, vestitini, tutte queste cose che possono servire ai bambini. Un'altra forma molto importante è quella del volontariato, cioè offrire la propria disponibilità come tempo da dedicare a questi bambini e a queste mamme. E naturalmente il sostegno, che può essere anche un sostegno economico, che ci permette di dare delle risposte, diciamo, in base ai bisogni, non solo espressi, ma anche ai bisogni che poi vengono effettivamente rilevati. Grazie.